rocco qui nel centro di bologna mi viene in mente una citazione fare canzoni e berevi francesco buccini la velenata ma se io avessi previsto tutto questo dati causa e pretesto forse farei lo stesso mi piace far canzoni e bere vino mi piace fare il casino poi sono nato fesso io ho questa fortuna enorme che sono uno di quelli che si svegna la mattina arriva presto qui ma non faccio fatica a venire a fare quello che faccio nei giorni marcello qui in emilia abbiamo visto tantissime varietà sono enti di rambusco ce ne stanno un'infinità chissà oggi cosa ci spiega simonetti e scopriamo insieme come si fa a capire se l'uva è pronta per la raccolta il pignoletto è per noi vino frizzano fondamentalmente tu dovevi chiudere le bottiglie tornare a lavorare in campagna e quindi queste bottiglie poi fermentavano in estate e diventavano frizzano e dopodiché si abbinavano bene al nostro grasso perché qui comunque la cosa più magra è la mortadella il mortadella è la cosa più magra che beva un bologno in passato si cercava appunto di unire le due produzioni oggi giorno invece lavoriamo in purezza quindi in purezza cosa significa utilizziamo solo un certo tipo di uva soltanto noi la cooperazione francese spagnola cubiamo il 50 per cento del vino europeo e il 25 per cento del vino del mondo di quante bottiglie stiamo parlando e 7 miliardi e mezzo di bottiglie quando vai all'estero ti capita di gente che ti dice no a me il san giovese non piace avevo solo brunello e mi dice vabbè insomma ci sono delle cose Rocco è bella l'uva fogherina ci mancherebbe altro è bello andare a vendemmiare ma non si vede di solo il mio vino guarda ho capito marcello io qui conosco un posto incredibile anche vedo subito andiamo qui siamo in una storica osteria di bologna dove le cose da mangiare si portano da casa però si può ordinare da bere al vino centro c'è c'è un po rosso la lista dei vini per favore grazie grazie a Grazie a tutti.